Eccoci qui al Motor Show di Bologna, allo stand delle Rani Team con un grande big Gianluca Pagliuca che si avvicina anche lui al mondo di motore. Si avvicina, sono sempre stato abbastanza vicino, mi sono sempre venuto durante gli anni miei e vero sempre, perché è una manifestazione che mi è sempre piaciuta, le macchine sportive soprattutto, quindi quando posso vengo. L'anno scorso all'Ascoli e per il futuro? Ma il futuro vediamo, adesso mi sto allenando però posso fare anche altre cose, se mi capita qualcosa che ne vale la pena, qualche società, qualche squadra buona, continuo, se invece devo fare avventure strane, basta.